Ciao a tutti, un brano semplice oggi bastano un dito della mano destra e un dito della mano sinistra. Siete pronti? Il brano è composto da due sezioni. La prima sezione è la sezione A, la incontreremo quattro volte, A-A, la sezione B una volta e poi di nuovo A-A. La sezione A è fatta così, corda vuoto per suonare due volte e poi terzo tasto. Stiamo suonando la prima corda e le note sono Mi, Mi e Sol. Poi ci sono quattro battiti di pausa, uno, due, tre, quattro e poi faremo Mi, Mi, quindi vuoto vuoto e poi La che è il quinto tasto. E anche qua altri quattro battiti di pausa. Sezione A facilissima, quindi Mi, Mi, Sol, uno, due, tre, quattro e poi Mi, Mi, La, uno, due, tre e quattro. La sezione B invece è fatta da Mi, 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 quindi vuoto, vuoto, vuoto sulla prima corda. Fa, Fa, Fa che è il primo tasto della prima corda, Fa diesis che è il secondo tasto della prima corda e Sol, terzo tasto della prima corda. E poi di nuovo la sezione A, Mi, Mi, Sol, Mi, La, suonare due volte e come nota finale mettiamo il Mi, prima corda vuoto. Provate a seguire la base. Grazie a tutti. Spero che anche l'esercizio di oggi vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. A presto!